Si è conclusa con successo l'operazione di acquisto di Credit Suisse da parte di UBS, con l'obiettivo di disinnescare la crisi del sistema bancario. Per le autorità svizzere non si tratta di salvataggio, ma di una soluzione commerciale e di tassi di interesse. Finché i tassi sono a zero, non c'è problema a lasciare i propri soldi in conti correnti non remunerati. Le banche ringraziano e usano i prestiti a breve forniti dai depositanti per offrire finanziamento a lungo termine, a tassi più elevati e guadagnare sulla differenza. Per l'operazione di acquisto, UBS metterà in campo risorse per oltre 3 miliardi di franchi svizzeri, acquistando il capitale di Credit Suisse per circa 0,76 franchi svizzeri ad azione. Allo stesso tempo, la Banca Centrale Svizzera ha fatto presente che concederà fino a 9 miliardi di garanzia per coprire potenziali perdite di Credit Suisse e circa 100 miliardi di franchi per sostenere l'acquisto. La certezza è che il passo fatto domenica con lo schema della fusione tra Credit Suisse e UBS sia il primo capitolo di una storia tutta da scrivere e con una serie di incognite da gestire è un lieto fine sicuramente lontano.